L'Associazione Propordenone, in collaborazione con la provincia e comune, ha indetto la 44esima edizione del premio Stella di Natale. L'apposita commissione, applicando lo spirito del premio destinato a persone che si sono distinte per un atto di altruismo, di soccorso disinteressato, di spontaneo aiuto, di generosità, ha attribuito il riconoscimento premio di bontà Stella di Natale 2011 a Felicità Iasevoli, detta Elda, che da 25 anni è accanto ai malati e bisognosi con il gruppo di preghiera Solare, e ad Agostino Zucchet, caposquadra dei Vigili del Fuoco, che il 24 dicembre 2010 salvò assieme alla sua squadra due persone travolte dalle acque del Meduna, dopo aver attraversato incautamente il guado. La consegna dei premi è stata intervallata dal canto di brani classici e moderni dedicati al Natale, con il coro di voci bianche della scuola Pietro Edo. Alla cerimonia erano presenti Monsignor Ovidio Poletto, in rappresentanza del Vescovo Giuseppe Pellegrini, il Vice Presidente della provincia Giuseppe Pedicini, una rappresentanza della Polizia Locale, con il gonfalone della città e il Sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. È un premio alla solidarietà e alla bontà, mai data e più adatta di questa per insieme dare un segno alle persone che più si sono segnalate nel nostro territorio, non solo nella città di Pordenone ma anche nella provincia, in parte nel Veneto, con atti di tipo particolare, a volte veramente straordinari, a volte apparentemente comuni e proprio per questo meritano la nostra ammirazione. Il tema della solidarietà e del fare bene agli altri è un tema tipico delle nostre associazioni ed è uno di quei collanti della nostra vita sociale, della nostra città. Sarà bene tenerlo presente sempre a mente, andando avanti, il 2012 vedrà proprio la solidarietà come uno degli elementi che ci aiuterà maggiormente ad affrontare le nostre difficoltà. Vi rinnovo gli auguri, cerchiamo di condividere insieme la felicità con queste persone e per quello che hanno fatto.